Arrivare al successo è fatica e rischio. Jody Schechter all'inizio della sua scalata nel 1973 proprio a Silverstone fu il protagonista principale di un drammatico incidente. Schechter perde il controllo della vettura, subito dopo la furba, coperto alla vista degli altri concorrenti. Schechter alza le braccia disparatamente, 15 vetture gli piumbano addosso con violenza e paura. Incredibilmente tutto si risolve sempre. Senza vittima. Schechter parla di successo.